La proposta che io vi voglio avanzare e che vi avanzo è quella di una donna appassionata di politica e una sindaca, un'amministratrice. Sono visibilmente e giustamente molto emozionata. Io vi ringrazio tantissimo per la fiducia accordatami. Un cambiamento vero. Abbiamo coraggio veramente di cambiare. Coraggio di andare avanti e di cambiare dalle fondamenta questo paese. Puntare dritto alla meta. Nicola ancora una volta ha scelto di lavorare per la propria comunità. Avevamo tante cose da fare e dovremo valutare la strada e il percorso da seguire. Credo che l'iniziativa delle 6.000 sardine vada accolta con assoluto entusiasmo. Dobbiamo essere capaci di dialogare, di costruire davvero un cambiamento e un campo progressista e riformista che sappia essere inclusivo ed accogliente.